Abbiamo la zona di decontaminazione, quindi la gente arriva da questo lato, vestita. Qui? Sì. Poi deve entrare, passare da questa zona filtro e entra in pratica in zona sporca. Quindi da qua in avanti si può accedere solo con il materiale di protezione. Uscendo invece da questa zona qua bisogna passare da quest'area che è l'area di decontaminazione e quindi ci si decontamina qua, si disinfetta il materiale che si è usato eventualmente all'interno, su questo tavolo e poi si esce mettendo i piedi su questo tappetino che disinfetta le suole. Una volta che hai terminato il tuo lavoro dentro il reparto di infetto, nell'uscire c'è tutta una procedura che va seguita alla lettera per vestirsi, quindi decontaminarti perché appunto dalla zona sporca, diciamo, passi tramite un filtro, che è la zona di svestizione o decontaminazione, per poi uscire nella zona pulita affinché il virus possa rimanere dentro e non esca fuori, ecco. Allora, facciamo un paio di guanti, sì? Poi ti togli la pietta. Allora, facciamo un paio di guanti.